Nuova stagione di tante mani in cucina. Tutti i sabati ci rivediamo alle 12 e 20 su canale 12 Tele Radio Pace TV. Ci saranno vecchi e nuovi ospiti e parleremo di tanti argomenti, l'adolescenza, la famiglia, lo sport, la scuola, con tanti professionisti, imprenditori, avvocati, medici. Parleremo anche di alimentazione che è fondamentale per un ottimo stile di vita e tante ricette, tante nuove ricette semplici, buone, gustose. Vi aspetto tutti i sabati ore 12 e 20 canale 12.